L'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che appunto prima abbiamo saputo allora ha adesso questa nuova collaborazione con l'Antitrust che non si è nuova ma sicuramente è un aspetto molto importante anche della vostra attività vi toccherà anche controllare che le spese non facciano concorrenza ideale, che non si aggredino che non facciano cartello anche per quello che riguarda la vostra attività. In quel modo intendete collaborare con l'Antitrust in questo senso? Questo annuncio che ha fatto il Presidente Mitruzzella insieme a me è molto rilevante perché la collaborazione tra chi è esperto in tutela della concorrenza e chi è esperto in vigilanza sui affidamenti e sul regolare rispetto della legge applicare è fondamentale che è una sinistra diciamo unica che può condurre a migliorare la legalità e la privo rettica. Adesso per rito al tema della relazione tra la mia autorità e il... Il consumatore perché la vostra può parire un'autorità molto distante da cittadino? Beh, in effetti, io devo dire che l'apparenza incarna, cioè come è come molto spesso, cioè in realtà gli effetti indiretti sul consumatore nel nostro settore si rilevano. Noi l'altro anno, come era ricordato, c'eravamo quanti dei prezzi degli acquisti nella sanità. Esatto. Prezzi, 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 prezzi. Ha dato ragione all'autorità e ha sostanzialmente riconosciuto la legittimità della nostra classificazione e l'elentazione dei prezzi, quello almeno che abbiamo dovuto fare. Prezzi di riferimento e di prezzi di riferimento. Prezzi di riferimento. Ecco, secondo me, proprio sui prezzi di riferimento si gioca la grande interazione che c'è dalla mia autorità e il consumatore, perché questi prezzi si riflettono inevitabilmente sulle tasche del consumatore, perché il consumatore paga di più i servizi, paga di più, paga molto più, paga più tasse di quelle che dovrebbe, perché le opere pubbliche costano di più. Chiaro che il consumatore, se la metropolitana di Roma costa tanto, veramente costa tanto rispetto e poi potremmo anche sapere perché, ma questo è un problema di tecnica che appesantisce il colloquio sui consumatori, ecco, se costa tanto si riflette sulle tasche dei consumatori, perché poi si riflette inevitabilmente sul piano economico finanziario e soprattutto sul prezzo di cliente, cosa che vuole dire. Tutta la materia che seguiamo noi indirettamente si riflette pesantemente sulle tasche del consumatore. Io vorrei però dire l'ultima cosa che noi abbiamo fatto, perché io vorrei parlare di cose che abbiamo fatto, non cose che saremo e potremmo fare, come spesso si fa. Ecco, l'ultima cosa che abbiamo fatto è una delibera del 18 novembre 2013 che va in gazzetta domani, domani il 27, no? Ecco, va in gazzetta il 27 e questa delibera riguarda la disciplina dell'analisi di impatto della regolamentazione. Ecco, di cosa si tratta? Si tratta di un provvedimento di carattere generale che attua un principio indefettibile nella disciplina normativa e nella regolazione anche da parte dell'autodicato, quindi appunto tutto, sia suciano delle norme primarie che delle secondarie e della regolazione dell'autodicato. Ed è la valutazione dell'impatto di questa regolazione. Perché interessa il consumatore questo? Perché? Innanzitutto, è una prima esperienza del campo dell'autodicato, il provvedimento del genere. E soprattutto il legislatore non l'ha mai attuale. Sapere cosa le norme, sia di minimo che di secondo grado, producono nel loro impatto, entrano nell'ordinamento, è fondamentale. Sono delle norme che hanno a volte un impatto del tutto diverso da quello che si aspettava. Anche la regolazione, a parte dell'autodicato, ha un impatto un po' delicato sul nostro. Questa delibera, che io invito veramente a tenere presente, ha una caratteristica, quella che segue nella regolazione, nell'analisi di tanto regolazione, segue il modello tiglio dell'autorità, la consultazione. Ecco, cioè la partecipazione delle, diciamo con questo termine anglosassone, ma che dice tutto, dei settori, dei condens, ma anche dei cittadini, a partecipare alla verifica dell'impatto della regolamentazione a tutto tutto. Questa delibera è stata descritta in un recentissimo articolo del sole 24 ore del 20 novembre, che a pagina 46 ha parlato, ha detto, ha sentito l'articolo atti dell'autorità con debat public, cioè istituire una forma di consultazione, una forma di partecipazione degli istituti alla verifica della regolazione. Questi sindaci, diciamo solo tutti, possono essere associazioni dei consumatori, che ovviamente rappresentino in forma organica i cittadini, possono essere le imprese, le associazioni di imprese, chiunque, nessuno è, non, la consultazione avviene in modo molto semplice, come tutte le autorità in modo, attraverso la pubblicazione di un documento base che viene pubblicato sul sito web dell'autorità e poi da questa pubblicazione nasce poi la possibilità per gli aventi interessi di interagire con l'autorità e di suggerire le migliori forme di regolazione, cioè una forma di regolazione che viene dal basso e facilita quindi il consumatore o le associazioni di consumatori. Io la trovo una forma assolutamente innovativa. Ma è stata una vostra idea Presidente o è una... No, è stata una nostra idea. Guardi, adesso, lo dico, non so, io tra l'altro è difficile auto... non sa, sì, ma questo è, purtroppo, è, purtroppo lo devo riconoscere, è l'idea dei nostri uffici, del nostro consiglio, insomma, è un bando della nostra volontà che è istituito una... aveva prima istituito una forma di interazione dal basso di questo tipo. Lei l'anno scorso, quando in questa sede ci aveva annunciato la nascita, la creazione di questa banca dati nazionale dei contratti pubblici? Allora, la banca dati nazionale dei contratti pubblici esiste, esiste da... è nata come banca dati a fini statistici, cioè per raccogliere elementi che servissero a... di documentazione e di ausilio alla regolazione nel campo dei contratti. pubblici... poi ci si è accorti che dovendo questi contratti confluire tutti e solo un milione e mezzo di contratti circa che si fanno all'anno nella banca dati, nei vari elementi, valori, generi acquistati, stazioni appaltanti, durata del contratto, pagamenti, poteva essere utilizzata dall'altro fine. Sui pagamenti, ad esempio, si può sapere, cioè noi cerchiamo di sapere, se questi tempi di pagamento siano rispettati. Questa è un'interazione con i consumatori, perché i debiti delle pubblici amministrazioni sul sistema di prese si riprendono inevitabilmente sull'uso quando valiscono le prese, eccetera. Però serve questa banca dati per accelerare gli affigamenti e quindi serve anche per la qualificazione e questo è un aspetto che è imposto. Una sorta di credit score per le imprese, insomma. Cioè, ma fa se preliminare della qualificazione. La distinzione fondamentale è che nelle gare dei lavori la qualificazione avviene con una procedura eteronoma, cioè avviene al di fuori della gara, cioè la commissione di gara si trova già la qualificazione pronta attraverso una identificazione, questa è una identificazione fatta talora, cioè fatta anche attraverso le costrette a SOA, ecco. Nelle gare per servizi c'è questa qualifica generata all'interno delle gare, così come si faceva a terminare il sistema di costruzione. Le associazioni di imprese e delle costruzioni vogliono che la quantificazione sia fatta a fuori, cioè che le commissioni di gara si occupino soltanto della valutazione dell'offerta. Questo è fondamentale per capire il sistema di gare in Italia, perché il sistema di gare io stesso ho fatto fatica a... Infatti guardi la mia prossima domanda era proprio quella, volevo capire qual è l'ambito pubblico sul quale è più difficile vigilare. Continuiamo a leggere appunto gli sprechi legati alla sanità, ma quando metteremo uno stop a tutto questo, Presidente, anche grazie alla vostra attività? Guardi, allora il... Se c'è questa autorità, perché dobbiamo chiamare Contarelli anche a... No, ma noi con l'autorità, con l'organo, con il commissario, noi abbiamo sempre a... Il commissario, diciamo, cura gli sprechi non soltanto degli acquisti. Per quanto riguarda gli acquisti, o meglio i contratti da un'amministrazione, sono un valore anche di 130 miliardi di valutazione. Su questi 130 miliardi si può risparmiare e si può risparmiare attraverso il controllo dei prezzi, i prezzi di riferimento. Noi sui prezzi di riferimento abbiamo un compito che ci ha affidato dal codice dei contratti, l'articolo 7, ci affida il compito di seguire i prezzi di riferimento di tutti i contratti, anche di lavoro. Poi, l'analogativa che ci ho dato l'altro anno, quella del governo Monti, ci ha affidato anche il compito nelle prezze che lo stanno in grado, cioè quei 30 miliardi di valutazione. Contarelli è, diciamo, vicinissimo alle nostre problematiche. Noi abbiamo in programma incontri con il commissario, così come li abbiamo avuti molto importanti, incontri con il commissario Monti, che ci ha più approfondito. Poi avete anche un'altra competenza molto delicata, che è quella delle messe scolastiche. Beh, le messe scolastiche fanno parte dei contratti che fanno gli enti che hanno il plonere di provvedere a questa funzione, perché per quanto riguarda queste gare non sfuggono alla normale vicina di caratteristica, delle gare di servizio. Lì c'è un problema, ovviamente, delle messe scolastiche, che è così, è il chilometro zero, cioè se favorire o meno la vicinanza della messa all'uomo, perché non è servito il salto. Sì, questo è uno degli aspetti, ma è un aspetto che va calcolato caso per caso, caso per caso, perché c'è il centro urbano, c'è il centro meno amplificato e così via. Il centro di gara arriva un'azienda che presenta false dichiarazioni, voi avete anche una bella attività sanzionatoria nei confronti di queste, vero? Sì, allora, per quanto riguarda l'attività sanzionatoria delle false dichiarazioni, diciamo che la qualificazione, tra la quale mi riferivo prima, si serve principalmente delle autodichiarazioni, almeno si è servita finora principalmente delle autodichiarazioni. E noi abbiamo, in materia di false dichiarazioni, una competenza sanzionatoria, vistosa e molto capillare, di cui ci occupiamo tutti i giorni, a dire che in una gara ci sia appunto una denuncia di falsità. Ma la falsità va superata, il problema è che la falsità va superata, il nostro trend, lo sviluppo che io vedo in questo problema è nel senso dell'acquisizione d'ufficio dei dati, in modo che nessuno debba dichiarare, possa dichiarare il fatto vero. E poi quello che non ci appliceremo è il fisco. Cioè se si potesse, ad esempio, avere la possibilità che il fisco prepari le dichiarazioni elezioni e prepari le dichiarazioni dell'Imu o di quella nuova tassa che è stata l'aiuto, che è stato diseguito. Ma io vedo che abbiamo finito, voglio che non ci mettiamo qualcos'altro entro domani. Però esistono questo sistema di preparazione, esistono alcune province autonome, provincia di Pozzaro di Trento, la dichiarazione dei lici, ieri dei lici, oggi, viene fatta direttamente dall'elettorale. Quindi noi ci dobbiamo preparare un sistema di questo tempo. Speriamo, speriamo di dire che è stato alto. Allora, abbiamo terminato, abbiamo preparato anche le conclusioni.